Parto subito da un complimento che ti ha fatto il Presidente. Se ti ha detto di Francesco ha portato grandissimo entusiasmo e grandissima voglia di far bene, di lavorare. Penso che sia davvero un bell'assist per te per iniziare la stagione. Mi fa piacere anche perché è giusto in questo momento specialmente inizio stagione avere grandissimo entusiasmo nell'andare a affrontare questo campionato. Mi auguro che rimanga ancora per tanto tempo ed è il mio compito questo di mantenere grande entusiasmo all'interno ma si lega sempre al lavoro, alla voglia di mettersi in gioco, alla grande disponibilità dei giocatori. Senti parliamo di mercato, manca probabilmente un attaccante e manca un difensore, poi questa squadra è completa e pronta a giocarsi la salvezza. A oggi, devo essere sincero, la priorità è il sassuolo, però ovviamente è inutile nascondersi, è vero quello che tu stai dicendo, stiamo cercando di lavorare sul mercato, ma come ho detto nella conferenza precedente mi fido tantissimo del lavoro che sta facendo Tony D'Amico, il mio direttore. Per quello preferisco oggi argomentare e parlare più della partita di domani che ritengo sia importantissima per noi. Matteo Fontana, Gazzetta dello Sport e Corriere di Verona Visto che vado ancora da quello che ci dicevamo prima a microfoni e telecamera è spenta, ti chiedo un po' della formazione giustamente perché c'era qualche giocatore che non è stato disponibile nelle ultime gare e anche sul portiere ad esempio Montipoca non c'era, adesso rientra e la sua scelta si andrà nella sua direzione oppure verso Ivor Pandur che comunque ha fatto delle buone cose. Deciderò tutto domattina o nella mia testa magari anche stasera, sicuramente Ivor ha fatto più partite a differenza di Montipoca che non ha mai disputato un amichevole, per quello credo in questo momento nella mia testa sia in vantaggio Pandur per quella che è la partita di domani. Mentre proseguo, vado avanti, abbiamo provato a recuperare i faraoni anche se sta evolvendo bene il suo lavoro, non sarà della partita e non sarà convocato. Per il resto per quanto riguarda la formazione ci saranno delle novità rispetto a quella col Catanzaro ma non sto qui a dirvele. A proposito del Sassuolo, senza ricordare il tuo lungo periodo fortunato, bello, indimenticabile alla guida nero-verde, però io direi che c'è una costante del Sassuolo che va dalla tua gestione ma che parte anche da quelle precedenti, ti ricordo quando c'era Max Allegri e poi successivamente fino a quella di De Zerbi, una squadra che ha sempre avuto come bussola la qualità del gioco e la qualità degli interpreti, la qualità anche della tecnica ed è una costante anche di questo Sassuolo che vedremo appunto domani al 20 godi. Come si risponde a questa cifra di talento che ha il Sassuolo, questa qualità di una squadra anche rodata al netto del cambio di allenatore che c'è stato? La proprietà, che è una grande proprietà, ha programmato in questi anni ed è riuscita sotto il profilo sia tecnico che manageriale a crescere costantemente. Per quello ogni scelta che ha fatto, anche sugli allenatori, è determinata dal desiderio sempre di mettere squadre con qualità e di cercare di imporre il proprio gioco. Negli anni c'è sempre riuscita, mi auguro che possano balbettare un po' domani perché potremo avere la meglio e noi dovremo invece cavalcare ancora quell'entusiasmo. Quello che ha detto un po' in conferenza Tamese ieri, l'aggressività, la voglia di lottare, di prevaricare sugli avversari attraverso determinate caratteristiche che la nostra squadra ha e che non deve mai dimenticare. Grande umiltà, grande voglia di aiutarsi durante la gara, specialmente contro una squadra rodata come il Sassuolo. Alessio Facincani, Tellarena Buon pomeriggio mister, volevo chiederti anche delle ultime due stagioni, nel senso i grandi risultati raggiunti nelle ultime due stagioni. Per te sono uno stimolo ulteriore, sono una responsabilità? Come si convive anche con questo tipo di aspetto, di aspettativa? Innanzitutto per un allenatore le responsabilità vanno al di là, o siano negative o positive ci sono sempre. Ovviamente quello che mi piace di questa squadra, e lo ribadisco per l'ennesima volta, è avere già una mentalità che a me piace tanto, il fatto di lottare, di combattere su ogni pallone, di essere aggressivi, di voler anche cercare il gioco in determinati momenti della gara. Io cerco di dare un po' quello che a me piace, ma cercando di mantenere questa loro mentalità che negli ultimi due anni ha fatto bene. Per quello per me è positivo in questo. È normale che personalmente, e non mi piace tanto parlare personalmente, io vengo da due stagioni, a differenza del Berona, negativi. Ho grandissima voglia di rifarmi, cercando di fare ancora meglio con questa squadra. Ti faccio una domanda anche su Nicola Kalinic. Come lo stai vedendo in questo momento? Che cosa gli stai chiedendo anche per supportarlo in fase realizzativa? Che impatto secondo te può avere in questa stagione? Innanzitutto sta lavorando con grande continuità. Non si è mai fermato, ha saltato pochi allenamenti, deve far gol. E lo ribadisco per l'ennesima volta. È quello che può dare a un attaccante la forza per superare anche delle difficoltà o altro. In questo momento, in fase realizzativa, siamo mancati. Anche se nella costruzione del gioco, in particolar modo, nell'amichevole con la Sampdoria, lui ha fatto molto bene nella prima mezz'ora, mettendosi a disposizione dei compagni. Deve continuare in questa direzione. È normale che un attaccante poi deve determinare di più negli ultimi 16 metri. Ed è quello che chiedo a Nicola. Gianluca Vighini, Tele nuovo. Allora, Ministro, si è parlato di un Verona che sulla falsa riga continua a essere quello di Juric. Però io, qualcosina, almeno in Coppa Italia, ho visto un po' della tua mano. Mi puoi spiegare bene che cosa vuoi dare di tu a questa squadra? Ma, innanzitutto, come ho detto in passato, ci sono tante cose positive all'interno. È normale che delle piccole accortezze le sto mettendo dentro, che siano sia in fase difensiva e in fase offensiva, dove ritengo e vedo delle cose differenti, come è giusto che sia. Per quello non credo nei copia e incolla, non credo nell'andare a scimmiottare altri allenatori. Però quando si vede qualcosa di buono, perché no? Dare continuità a quello che è, dove c'è una squadra che ha già una mentalità. Ho detto già in passato che negli ultimi due anni ho avuto delle difficoltà perché ero stato chiamato a cambiare totalmente la mentalità di determinate squadre. E vi assicuro che il tempo è tiranno nei nostri confronti. In questo momento io devo cercare di sfruttare al meglio quello che fanno veramente bene questa squadra, mettendoci delle pillole che a me piacciono. E credo che i ragazzi, come hai detto te, mi fa piacere, stanno interpretando al meglio sia durante i allenamenti ma anche nelle partite che abbiamo fatto fino adesso. Dove manchiamo, dal mio punto di vista, è voglio di più, pretendo di più da loro ed essere più cinici, più cattivi in zona gol. Noi abbiamo creato anche tanto in Coppa. Rispetto a quello che abbiamo creato, abbiamo concretizzato poco. E questo mi auguro che accada già da domani. Posso dire, almeno la sensazione che si ha dagli spalti, ma è già anche l'anno scorso, sembra quasi che la squadra sia contenti di fare bene lo schema, di arrivare, di liberarsi sul primo palo, di fare bene la scalata in attacco e che questo sia già gratificante, che non sia il gol la gratificazione, ma sia appunto fare bene il movimento. Non so se hai anche tu questa sensazione. È lo step successivo. Sono d'accordo che dobbiamo migliorare questo. Però è normale che i calciatori non arrivano, che il concetto di accontentarsi è già una cosa che mi infastidisce. Loro devono essere, tra virgolette, ambiziosi nel cercare sempre di far male agli avversari. E la parte finale poi diventa sia la preparazione, sia la prima costruzione, sia l'assist, ma poi andarla a chiudere determina. Prima si parlava di partite con dieci occasioni da gol e poi magari si perde una a zero. E poi il ramarico è ancora peggio. Continuiamo a costruire come stiamo facendo adesso, ma cercando di essere più cattivi sotto porta. Non so se per te è la stessa partita delle altre volte, ma stasera prima di andare a letto, chiudi gli occhi, come te le immagini questa partita col Sassuolo? Positiva. Voglio pensare positivo, cercando di ripulirmi da tutte quelle che sono state, che è stato un po' anche l'ultimo periodo in generale. E poi, ma al di là che affronto la mia squadra, che a me ha dato tantissimo, come magari ho dato anch'io tanto a loro, ma quello che oggi mi interessa realmente è vedere il Verona migliorato, evoluto, cercando di continuare sulla falsa riga dell'anno scorso, ma in senso positivo. Proseguiamo con Luca Chiarini, tutto a Mercato Web. Mister, buongiorno anche da parte mia, e volevo fare una domanda su Illich. L'anno scorso, diciamo che sostanzialmente, le scelte a centrocampo vertevano verso un mediano più di impostazione, banalizzando il concetto, e un altro più di rottura. E la strada che pensa di perseguire, anche lei mi spiego, cioè un centrocampo Veloso-Illich si vedrà molto spesso quest'anno, o pensa di affiancare a un Veloso e a un Illich un centrocampista più di rottura, che può essere Ongla, può essere Tamese? Nella logica di una costruzione di una squadra, l'ideale è sempre mettere le coppie Illich-Tameze o Illich-Ongla, e la stessa cosa vale per Veloso. Ma non è detto che non possano giocare insieme. Il momento in cui, in particolar modo, Ivan acquisirà maggiore condizione, perché è arrivato da poco, ha fatto pochi allenamenti con noi, sono convinto che può essere un centrocampo che durante la gara o a partita iniziale potrebbero giocare insieme. Perché no? Io credo che ci vogliano determinate caratteristiche in tutte e due le fasi di qualità, e a me piacciono i giocatori di qualità. Quando è possibile metterli insieme è una cosa fattibile. Poi le chiedo di Lammers. Chiaramente fino a che le operazioni non sono chiusi, fino a che non ci sono le firme, non si può dare nulla per fatto. Ti fermo in anticipo perché non posso esprimermi su calciatori che non sono del Verona. Non ha un senso, specialmente prima della partita. Poi se me ne vuoi fare un'altra, benissimo. Sì, no, volevo chiederle allora più in generale. Lei ha detto che farà dei cambi di formazione rispetto alla partita in Coppa contro il Catanzaro. La difesa verrà ritoccata o le ha dato delle risposte sufficientemente convincenti? Beh, dobbiamo migliorare tante cose. Devo dire che, tra virgolette, in fase difensiva a un certo punto ci ha giocato anche Cancellieri, che non è proprio un esterno puro difensivo. Ha fatto molto meglio quando attaccava che quando difendeva. Però la nostra squadra ha bisogno anche di equilibrio. Sicuramente in partenza, contro una squadra di qualità come quella del Sassuolo, partire in questo modo sarebbe un rischio un po' grande. Anche se non è detto che io possa osare anche in questo caso. Alberto Fabri, è la Slyve. Buon pomeriggio, mister. Ben ritrovato. Ti chiedo, parlando appunto della tua ultima affermazione, fuori Faraoni, quindi Cancellieri o Casale? In base anche a quello che tu, o meglio come tu vorrai leggere la partita, perché appunto come dicevi, Cancellieri in fase propositiva può essere un valore aggiunto, come invece in fase difensiva. Insomma, il ragazzo, ricordiamolo, è un 2002, deve migliorare e non poco. La chiave di volta può essere più a favore appunto di Cancellieri o di Casale, a seconda semplicemente di come vorrà impastare quindi la partita? Sì, è una valutazione corretta, ricordandoci anche che, dimenticavo prima, abbiamo recuperato in settimana l'UEG. Per quello può essere anche quella una soluzione, magari non a partita iniziale, ma a partita in corso. Ci sta, non ti sta a dire la formazione, chi vuole capire capisca. In generale, tornando a un concetto anche di equilibrio di squadra, valuterò se partire è un pochino più spregiudicato o con maggior equilibrio. Nella conferenza pre-partita con il Catanzaro, tu giustamente parlavi di emozioni, calcio e emozioni, e per fortuna, sottolineo per fortuna, la pre-vendita sta andando molto bene, il pubblico, tu mi insegni, dai giocatore e anche allenatore affermato, che è il dodicesimo uomo in campo. Ecco, ti chiedo, tu che hai la fortuna adesso, di avere la panchina adiacente al cuore pulsante del Verona. Che effetto ti fa innanzitutto rivedere il pubblico sugli spazi, perché non eravamo purtroppo e me più abituati, e quanto può influire, soprattutto sulla testa dei tuoi ragazzi? L'altra sera, rivivendo un po' la partita, anche delle emozioni, anche all'inizio, mi sembrava di essere tornati indietro con gli anni, perché non eravamo nemmeno più abituati, al di là delle persone, 5, 10 mila, 4 mila, il sentire il pubblico, il tifo, l'incitamento, secondo me è fondamentale. Poi specialmente l'Ellas, la curva, è veramente una curva importante, e sono convinto che domani farà sentire la sua presenza. A chiudere, Tommaso Badia, CalcioEllas. Siamo, io credo che i colleghi siano stati piuttosto esaurienti, quindi volevo chiederti semplicemente una puntuosità, nel senso quindi, recuperato Rueg, resta fuori Faraoni, Montipò recuperato, e abbiamo parlato anche di, chi è l'altro recuperato? Di Rueg? Di Lasagna? Di Lasagna e fuori. Non abbiamo altri infortuni, nel senso, non abbiamo novità dell'ultimo minuto, per quanto riguarda l'infermeria. Per ora no, aspettiamo domattina. Domattina ci saranno i convocati definitivi, perché facciamo, diciamo, l'ultimo allenamento di rifinitura, e di lì sapremo se, se c'è qualche problema. qualcuno aveva avuto qualche problema in settimana, ma ad oggi sono tutti recuperati, tranne quelli che abbiamo detto prima.